Il consapevole di quello che ha fatto ha usato un'espressione molto significativa, ha detto indietro non si torna. Si è reso conto di ciò che ha fatto, indietro non si torna. Sono state le sue parole in sede di interrogatorio presso il carcere a Rettino di San Benedetto nel quale si trova detenuto con l'accusa dell'omicidio del padre. Giacomo Ciriello, il 18enne, che nella notte tra domeniche e lunedì ha ucciso con una fucilata al volto il padre Raffaele, si è però avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del faccia-faccia con il PM Laura Taddei. Non è entrato nei particolari perché ha testualmente detto di trovarsi in una situazione confusionale per cui non sono in grado di rispondere proprio, però assumendosi la responsabilità di quel che ha fatto. Questo era un interrogatorio richiesto e voluto dal Pubblico Ministero senza l'articolo 388 del codice processuale a cui farà seguito l'interrogatorio di garanzia vera e proprio, quello finalizzato alla convalida chiedo scusa dell'arresto che si dovrebbe celebrare dopo domani con uno dei GIP del Tribunale di Arezzo. In quel caso parlerà? Non lo so, sinceramente non lo so. Se la condizione è quella di stasera credo sia difficile perché veramente a stento mette una parola dietro l'altra. Come l'ha trovato? Molto provato, molto molto provato.